Ciao a tutti ragazzi, ecco qui con un nuovo video, questo sarà un video appunto anche con una nuova tipologia, ovvero farò i preferiti del mese di settembre, ci saranno delle diverse categorie e il prodotto che corrisponderà appunto a questa categoria per il mese di settembre. Gli dico subito quali sono le categorie che andrò a rispondere, la prima categoria è quella degli accessori, sicuramente per il mese di settembre l'accessorio che mi è piaciuto di più è questa collana qui di Forever 21 che avete visto nelle foto di Instagram, vi ho fatto vedere anche nel primo video che fece appunto sui acquisti, sullo shop, shopping ed è questa collana di Forever 21 che io amo, a parte che va appunto a rappresentare il mio primo shopping online che ho fatto, quindi la mia soddisfazione nell'essere riuscita ad ordinare online e poi è stato proprio bello perché l'attesa, comunque quando è arrivato ero contentissima, devo dire che acquistare online sicuramente ti dà delle emozioni diverse rispetto a quelle di acquistare nel negozio, quindi sicuramente non lo so, una sorta di coppa che ne so, no però sono molto contenta e mi piace tanto, quindi sicuramente questa è la the best per il mese di settembre. Poi categoria indumento, vi mostro questa gonna di Tezenis, è la gonna lunga di Tezenis con un spacchetto laterale a sinistra e questa qui mi è piaciuta subito, praticamente perché è molto comoda, come è cotone, è morbidissima, il prezzo era, proprio ti tentava perché costava solo 10 euro, mi piace tanto perché sicuramente è il must have non solo per settembre ma anche proprio per la stagione estiva, è stato il mio must have perché l'ho indossata con qualsiasi cosa, con un sandalo, con una sneakers, mi piace tanto, ho indossata anche per esempio questa stagione che è stata bellissima appunto con i crop top, quindi sicuramente la gonna è stato il the best per il mese di settembre e non contenta, oltre a prenderla nera io l'ho presa anche bello con i bua blu e grigia con i bua fucsia fluo. Poi per la categoria invece scarpe vi faccio vedere queste sneakers di Stradivarius che sono queste sneakers immaculate con questa appunto suola bianca che è molto carina, io non amo moltissimo la fantasia immaculata, però sulle scarpe e sulle maglie forse è l'unico modo appunto per indossarla, poi mi piaceva tanto perché comunque sono rese un po' più particolari da questa soletta bianca e quindi non troppo eccessivamente pesantone come fantasia, poi carine perché i lacetti sono leggermente lucidi, quindi comunque gioca un po' sulla questione sportiva elegante, quindi assolutamente mi piace. Per quanto riguarda invece la categoria borsa vi faccio vedere questa borsa qui, questa è una borsa di Blue Girl, è una borsa in ecopelle, è un bagaglione più che una borsa, questa mi piace tantissimo, io in estate o comunque mezza stagione mi piace tantissimo indossare il blu, quindi sicuramente questo borsettone di Blue Girl è il mio preferito, mi piace tanto, ha questi due manici comodissimi e la tracolla che è stra comoda, poi è carinissima perché ha questo fiocchettino, non so se riuscite a vederlo bene, questo fiocchettino messo qui davanti appunto con questa fascetta d'oro, d'oro metallica, con la scritta Blue Girl e poi ha questo charme qui che è con appunto la cerniera, poi la borsa è questa qui, è comodissima, ha due tasche e poi vabbè quella qui è la tasca un po' più grande con la zippina, quindi questa qui è la The Best per il mese di settembre come borsa. Poi invece per quanto riguarda la decategoria profumo, vi mostro il mio profumo in assoluto, infatti la cosa bella è di fare questi video dei preferiti, anche secondo me un modo per farsi conoscere meglio, per me questo profumo appunto lo è per tutti i mesi, però appunto vanno alle ciance e questo qui è il mio profumo che vi faccio vedere, il Pnotic Poison, io sono legatissima a questo profumo, l'ha fatto conoscere in primis mia mamma e sono legata appunto e mi fa pensare a tutte le volte che magari prima di uscire ce lo mettevamo insieme quindi io sicuramente se devo scegliere come preferito vi dico sicuramente l'ipnotic perché appunto mi piace tanto, è un profumo che mi caratterizza e l'ho sempre amato e anche se magari ne provo altri profumi perché io comunque sono curiosa quindi ne provo anche altri profumi però poi alla fine ritorno sempre dal mio vero amore che è lui. Come smalto vi faccio vedere questo smaltino della Essenze che vi ho già mostrato nel video dello shopping, nella Ormisto e mi ci sono data benissimo, cioè io lo adoro, lo adoro perché prima di tutto ha la spatolina che ti permette di applicare meglio lo smalto perché è proprio più larga e poi ha un colore bellissimo che come vi disse in quel video sicuramente non ti fa rinunciare allo smalto ma comunque allo stesso tempo ti fa essere semplice, è giusto per avere sempre le unghie comunque ben curate ed è quello non so se lo vedete bene che indosso oggi che ho arricchito un po' comunque i famosissimi confettini colorati però ecco quindi sicuramente questo è lo smalto preferito del mese di settembre. make up, vi mostro questo blush della Kiko, questo è il mio blush per eccellenza preferito sicuramente per la stagione estiva e lo utilizzo tantissimo perché avendo la carnagione che diventa molto molto scura per la stagione estiva e questo blush appunto che vedete quanto è forte, ha messo nelle gote, comunque spicca bene, mi piace tantissimo e poi vabbè io l'utilizzo anche veramente per l'inverno però sicuramente in inverno lo applico pochissimo e lo sfumo, tanto io comunque non sarò abbronzata come l'estate però la mia carnagione comunque è olivastra quindi lo utilizzo anche in inverno e poi come prodotto beauty vi mostro questa novità per me però una piacevole novità ed è questo olio per capelli all'argan, io lo amo, 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 amo questo applicatore che è fantastico, packaging adorabile e lo amo perché ti permette di dosare il prodotto e non sprecarne, poi sui capelli fa un effetto unico, morbidissimo e profumatissimo ed è la linea Oyster Cosmetics, il brand è questo Oyster Cosmetics, è un 100 ml, infatti questo qui lo porterò anche con me in vacanza, ve lo mostrerò nel, quando vi farò vedere il beauty appunto nel dettaglio e quindi sicuramente questo qui è il prodotto, è il prodotto della rivelazione come nella categoria beauty, quindi per quanto riguarda i miei preferiti di settembre è tutto, io vi mando un bacione, vi ringrazio ancora per le visualizzazioni, se vi è piaciuto il video mettetelo pure un mi piace col didino in su, io vi mando un grosso bacione e vi ringrazio ancora per avermi seguito, un bacione, ciao!